Tempo fa ho realizzato un primo video sullo scetticismo greco, ma in particolare in quel video avevo parlato di Pirrone, il fondatore di questa corrente ellenistica, e avevo fatto qualche cenno ai filosofi scettici successivi, ma proprio in maniera molto veloce e sintetica. Oggi approfondiamo questa seconda parte della presentazione dello scetticismo, cioè parliamo di quei filosofi che sono venuti dopo Pirrone e nel corso dei secoli successivi, anche vari secoli successivi, hanno mantenuto viva la dottrina delineata dal pensatore greco. In particolare parleremo di Carnere, parleremo di Sesto Empirico e di altri nomi importanti dello scetticismo greco e romano. Andiamo a cominciare. Un socio di caffè molto breve nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che pronuncio obbligatoriamente in apertura di ogni video, come ci sono obbligatoriamente anche loro, Topolino, Tostoi, Batman, D'Andrea, il mostro prof. Cuscino e un altro mostro di cattolo qui e poi obbligatoriamente ci sono anch'io. Mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia di liceo e da tre anni su questo canale, anche utilizzando il nickname di Scrip, Realizzo video spiegazioni di storia, di filosofia, di educazione civica, sui libri, sui film, insomma tante discipline interconnesse tra loro ma sempre per fornire, dare qualche sostegno allo studio, alle superiori, all'università o per chiunque voglia riscoprire o scoprire da capo queste discipline importantissime secondo me per la formazione non solo professionale, anche per la formazione professionale ma anche in generale per il cittadino che vuole orientarsi nella vita di tutti i giorni. Oggi parliamo di una corrente filosofica che, come vi dicevo, abbiamo già presentato in realtà lo scetticismo, anche perché è una corrente che poi nasce in fase ellenistica, diciamo nella fase di decadenza della politica greca ma poi lascia i suoi semi per secoli e secoli, abbiamo filosofi scettici anche ai giorni nostri sostanzialmente e soprattutto anche nella storia della filosofia ogni tanto ricompaiono questi filosofi scettici però la scuola vera e propria, propriamente detta, è una scuola greca, è una scuola ellenistica fondata appunto da Pirrone che abbiamo già presentato in descrizione, vi metto il link al video in cui approfondivo la sua dottrina con la questione dell'epochè, della sospensione del giudizio, dell'afasia eccetera eccetera però in quel video, come dicevo in premessa, dedicato a Pirrone, poi ho fatto qualche cenno ai successori senza approfondire, perché doveva essere un video breve e introduttivo visto che il tema in realtà è interessante, a me interessa particolarmente poi ho letto anche tra l'altro un libro che riprende anche questo scetticismo greco e vi metto in descrizione magari il link se volete comprarlo ebbene, c'è bisogno forse di approfondire un attimo i successori di Pirrone chi è venuto dopo e quali contributi ha portato allo sviluppo dello scetticismo allo sviluppo in generale della filosofia bisogna dire che il paradosso è che immediatamente dopo la morte di Pirrone il suo insegnamento, il pirronismo come veniva chiamato anche all'epoca venne portato avanti da quella che sembrava essere la scuola meno propensa a proseguire in quella direzione cioè Pirrone aveva detto dobbiamo ammettere di non sapere dobbiamo limitare la nostra voglia di pronunciarci su tutto dobbiamo introdurre il dubbio, la skepsis che è proprio il dubbio in tutte le cose che affrontiamo e però proseguire questo discorso furono quelli che in realtà sembravano più distanti da queste idee quelli che sembravano più vicini a verità assolute cioè i platonici questo può sembrare effettivamente strano e scandaloso perché Platone nella filosofia antica è forse il filosofo che regge il suo sistema maggiormente sugli assoluti se pensate alla rotina delle idee di Platone più verità con la V maiuscolissima di quelle di Platone non ce ne sono in fondo Aristotele è tutto sommato è più possibilista riguardo alla conoscenza è più incerto pur avendo anche Aristotele delle certezze solide tanti altri filosofi ammettono variazioni sul tema di dubbio, di perplessità, di conoscenza che arriva fino a un certo punto Platone è quello che sembra dire no no c'è una conoscenza assoluta c'è una verità con la V maiuscola inattaccabile, inamovibile, immutabile e sta nel mondo delle idee quindi tutto ti aspetteresti tranne che i propri platonici diventino scettici in realtà bisogna capire questo strano fenomeno perché Platone è morto nel frattempo no già Pirrone arriva dopo Platone quindi Platone è morto la sua scuola non è morta cioè l'accademia, la scuola fondata da Platone sta continuando ad agire e ad operare solo che dopo la morte di Platone la prima accademia diciamo è ancora fortemente segnata dagli insegnamenti di Platone perché i primi capi, i primi guidi di questa accademia sono gli ex allievi di Platone che quindi continuano il suo insegnamento ma più passa il tempo più il messaggio platonico inizia un po' a disperdersi e soprattutto più cambiano gli interessi del mondo greco se vi ricordate quando abbiamo presentato l'ellenismo e in descrizione vi metto il link abbiamo detto che è una fase storica in cui per mille motivi motivi storici, sociali, politici i filosofi si disinteressano gradualmente della politica non si interessano più della politica che invece era stata al centro dell'interesse di Socrate e di Platone proprio invece iniziano a occuparsi di questioni molto concrete, quotidiane di etica, di felicità di potremmo dire oggi etica applicata cioè non riesco a parlare dei massimi sistemi meglio parlare di come vivere oggi di come agire quotidianamente questo è l'atteggiamento di tutte le scuole ellenistiche dall'epicureismo, lo stoicismo eccetera ora questo investe questa tendenza nuova investe anche l'accademia che intanto ha proseguito le sue lezioni e continuato ad operare ad Atene e quindi gli accademici post-platonici ci dicono ok, il tempo è cambiato dobbiamo anche noi iniziare a occuparci di cose molto concrete molto terrene se volete ora, cosa aveva detto Platone sulle cose molto terrene? aveva detto che le cose molto terrene chiamiamole così sono ombre no? vi ricordate il mito della caverna? sulle cose di questo mondo non si può avere nessuna conoscenza valida e seria secondo Platone si possono avere solo opinioni solo conoscenze molto molto vacue l'unica vera conoscenza è quella che si ha nel mondo ultraterreno al di fuori della caverna ora, se i filosofi accademici cioè i successori di Platone dicono vabbè, quello che c'è fuori dalla caverna lasciamolo là non ce ne occupiamo più occupiamoci della caverna è chiaro che allora iniziano a dire vabbè, come devo agire dentro la caverna? cosa devo fare? essendo tutto oscuro essendo tutto ombroso devo forse fare come insegnava Pirrone cioè astenermi da giudicare cioè a usare formule cautelative eccetera quindi gli esponenti di questa accademia che verrà chiamata poi seconda accademia o media accademia per distinguere dalla prima quella di Platone inizieranno gradualmente effettivamente ad avvicinarsi allo scetticismo capite? mettendo insieme paradossalmente il messaggio platonico e il messaggio di Pirrone e dimenticando alcuni pezzi ovviamente del messaggio platonico in particolare il maggiore esponente di questa seconda accademia o media accademia è un certo Alcesilao di Pitane che vive appunto tra il 315 e il 240 a.C. circa che professa soprattutto l'epochè bisogna che noi filosofi platonici post platonici accademici evitiamo di pronunciarci visto che la conoscenza di questo mondo è quello che ci interessa ma è anche una conoscenza assai oscura pratichiamo la sospensione del giudizio l'epochè appunto un concetto introdotto proprio da Pirrone e eventualmente al massimo cerchiamo di usare il buon senso Alcesilao è uno dei primi propugnatori di un buon senso filosofico molto concreto molto pragmatico invece di andare a cercare grandi schemi astratti astrusi usiamo la vita pratica e concreta un po' di buon senso che può andare bene lui usa l'espressione eulogia eulogia vuol dire proprio questo buona parola buon senso logos eu vuol dire buono bello quindi il buon senso la buona parola cercando di non esporci troppo e di moderarci quindi come vedete paradossalmente lo scetticismo inizia a fondersi almeno in parte con il platonismo ma più ancora di Alcesilao più ancora degli esponenti di questa seconda accademia sono importanti gli esponenti della cosiddetta terza accademia che arriva quando a guidare la scuola diventa non più Alcesilao ma un suo successore che si chiama Carnere Carnere chi era costui luminava tra sé Don Abbondio seduto sul suo seggiolone in una stanza del piano superiore con un libricciolo aperto davanti quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata Carnere questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito doveva essere un uomo di studio un letteratone del tempo antico è un nome di quelli ma chi diavolo era costui tanto il povero uomo era lontano da prevedere che Burrasca gli si addensasse sul capo ecco queste frasi che vi ho letto forse vi sono suonate familiari perché se avete fatto le superiori avete letto i Promessi Sposi le avete già lette è l'inizio dell'ottavo capitolo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni tra l'altro ad Alessandro Manzoni stiamo dedicando una serie di video filosofici e storici in descrizione vi metto il link un inizio tra l'altro famosissimo anzi addirittura questa frase Carnere che era costui è diventata proverbiale come altre espressioni dei Promessi Sposi sono entrate nel linguaggio comune quindi si usa dire non so se voi l'avete mai detto queste frasi però magari i vostri genitori i vostri nonni vi hanno detto quello è un Carnere cosa vuol dire è un'espressione che si usa per indicare una persona già sentita ma che nessuno ricorda davvero un signor famoso ma di cui nessuno sa niente ecco in questo caso perché perché il capitolo di Manzoni si apre proprio su Don Abondio che sta leggendo in un libro sta guardando un libro che è un carico perpetuo e finisca un sacco di problemi per il matrimonio eccetera è lì che legge questo libro e si imbatte nel nome di Carnere e dice ma che cavolo è sto Carnere l'ho già sentito nominare ma non mi ricordo chi è deve essere un gran professore di tempi andati dice uno del tempo antico ma non mi ricordo che cavolo sia e quindi Carnere che era costui è diventata proverbiale quando appunto tu dici un nome già sentito ma non ti ricordi che cavolo sia ecco Carnere oggi è noto soprattutto per questo ancora oggi questo grande filosofo scettico penso che è dimenticato se non per la menzione che ne fa Manzoni nei Promessi Sposi eppure è stato un filosofo anche interessante e rivalutiamo questo povero Carnere di Cirene Cirene vi ricordate quella città importante del Nord Africa della Libia del tempo antico da cui provenivano anche i Cirenai Cicarnere fu il leader della terza accademia e quindi di quella fase della scuola platonica che però ormai era aveva aderito abbastanza nettamente allo scetticismo e anche appunto questo Carnere fu scettico terza accademia o nuova accademia viene chiamata in molti modi Carnere pare sia vissuto tra il 214 e il 129 a.C. quindi ci stiamo avvicinando ormai all'epoca romana non a caso delle poche cose che sappiamo della vita di Carnere sappiamo anche che probabilmente si recò a Roma insieme tra l'altro a uno stoico e a un aristotelico inviato dalla città di Atene quindi mandarono uno scettico uno stoico un aristotelico i principali esponenti delle scuole poi Carnere era scettico ma era anche platonico per difendere la città perché Atene era stata accusata dai romani di aver saccheggiato un'altra città ingiustamente quindi Roma stava pensando a una punizione per Atene e questi tre filosofi furono mandati a fare gli ambasciatori a dire per favore non punite la nostra città gli Atenesi si hanno visto che abbiamo questi filosofi in città che sono bravi a parlare mandiamoli a parlare ai romani effettivamente quelle poche cose che sappiamo di Carnere ci derivano da questa notizia della sua ambasceria a Roma e pare che giunto a Roma abbia pronunciato alcuni discorsi che avevano anche un certo successo tant'è vero che viene ricordato per questo due discorsi uno sulla giustizia dove esaltò la giustizia mostrò quanto è importante la giustizia dall'altronde doveva penolare la causa di Atene quindi esaltò la giustizia ma poi fece un secondo discorso un po' strano che però serviva all'uopo diciamo dove contrappose la giustizia e la saggezza mostrando che è bello essere giusti ma è ancora meglio essere saggi e hanno detto che giustizia e saggezza vadano di pari passo perché pare che in questo discorso Carneda abbia sostenuto che i romani quando dovevano scegliere tra giustizia e saggezza avevano scelto la saggezza perché perché se fossero stati giusti se avessero voluto essere giusti i romani avrebbero liberato tutti i territori sottomessi tutti i popoli sottomessi iniziavano già a sottomettere parecchi a quel tempo se avessero voluto essere giusti avrebbero liberato tutti ma questo non sarebbe stato un gesto saggio perché liberare tutti avrebbe voluto dire rovinare Roma allora dice Carneda vedete voi romani quando siete entrati in conflitto tra giustizia e saggezza avete preferito la saggezza e questo è indice di grande saggezza quel è lo scopo ovviamente di Carneda dimostrare che anche con Atene che rischia di essere punita non bisogna usare solo il criterio della giustizia altrimenti la punivano ma magari anche quello della saggezza e quindi andarci cauti sostanzialmente comunque al di là di queste piccole note biografiche non sappiamo molto della filosofia di Carneda perché i suoi scritti e gli scritti dei suoi allievi sono andati tutti perduti quindi non abbiamo testi originali di Carneda però abbiamo qualche notizia diciamo così di seconda mano pare che Carneda da buon scettico abbia più che proporre una sua filosofia positiva criticato soprattutto le filosofie delle altre scuole e mostrato i limiti delle filosofie altrui in particolare se la si è appresa abbastanza con lo stoicismo altra scuola filosofica che aveva un grande successo all'epoca soprattutto criticando la la conoscenza che veniva teorizzata dagli storici vi metto magari un link in descrizione per recuperare la rotina stoica della conoscenza in particolare la rappresentazione catalettica che per gli storici era il primo anzi più efficace modo per conoscere la realtà in più criticò pare anche l'idea della provvidenza vi ricordo che gli storici erano convinti che la storia che si ripeteva tra l'altro fosse guidata da una provvidenza divina e su questo invece Carnere per aver portato argomenti molto validi contro l'idea della provvidenza divina ma al di là delle critiche e delle polemiche che ovviamente era tende erano forti all'epoca c'erano varie scuole che si contenevano la scena e quindi ci stava anche che ci fossero critiche polemiche Carnere è famoso per essere stato uno scettico sì uno scettico tutto sommato moderato era convinto cioè che non si potesse trovare non si potessero trovare criteri di verità assoluti che non si potesse dire le cose stanno così per certo in nessun ambito quindi critica gli stoici avrebbe criticato probabilmente anche Platone però ritiene allo stesso tempo che una qualche scelta vada comunque fatta è vero che non posso avere verità certe davanti a me e quindi non posso dire le cose stanno così o le cose stanno cosà eccetera ma devo comunque scegliere se è anche solo scegliere come agire come comportarmi devo fare una scelta allora se non posso usare dice Carnere un criterio di verità posso almeno usare un criterio di credibilità che differenza c'è cioè Carnere dice io devo alla fine fare delle scelte quindi devo dire opto per A o opto per B o opto per C eccetera ma devo ricordarmi prima cosa che A, B o C non sono la verità non dico scelgo A perché quella è la verità scelgo A perché in mancanza di meglio scelgo A cioè alla fine è un discorso di cerchiamo il meno peggio in un certo senso ma questo cerchiamo il meno peggio deve essere fatto deve essere una scelta operata sulla base ripeto della credibilità cioè lui usava quella che lui chiamava la rappresentazione persuasiva cosa vuol dire? prima di tutto davanti a un problema in cui ci sono varie strade varie possibili soluzioni devo ipotizzare una strada dire ma certezze non ce ne sono verità non ce ne sono però mi sembra che quella strada sia la migliore dopo aver ipotizzato questa strada migliore pur nell'incertezza devo confrontarmi con tutte le opinioni avverse o meglio le chiamano le rappresentazioni degli avversari facciamo un esempio concreto così ci capiamo meglio poniamo che mi venga chiesto se sia lecito rubare oppure no allora io da buono scettico potrei dire ma guarda sul rubare certezze non c'è una verità assoluta che dica rubare sempre sbagliato perché magari in certi casi può essere anche giusto dipende dai casi allora io potrei dire non ho verità assolute sulla questione però visto che alla fine devo scegliere se rubare oppure no devo agire nella vita di tutti i giorni posso anche dire verità non ne ho ma ritengo che forse sia più credibile criterio di credibilità astenersi da rubare cioè non rubare però visto che non sono certo voglio sentire tutte le campane voglio sentire cosa ne pensano gli altri allora andrò a sentire altre persone che hanno rappresentazioni diverse dalla mia la mia rappresentazione cioè la mia opinione è che rubare sia sbagliato sia generalmente sbagliato ascolto cosa dicono gli altri l'ascolto un altro e mi dice sì sì anche secondo me è sbagliato bene ma devo andare in cerca anche di chi la pensi in maniera diversa rispetto a me mettiamo che io incontri uno che dica che rubare è giusto in certe circostanze lo devo ascoltare devo vedere se riesce a persuadermi della sua opinione se riesce a convincermi della bontà della sua opinione dopodiché dopo averlo ascoltato dopo aver ascoltato tutti i suoi argomenti se lui mi ha convinto cambio idea se non mi ha convinto la mia rappresentazione quella che è rubare sbagliato non è che sia diventata vera ma se ha resistito alle critiche avversarie è un po' più credibile di prima questo vuol dire criterio di credibilità io sono certo che nessuna verità è assoluta ma posso ritenere un po' più probabile un po' più credibile un'opinione che ha resistito a molti attacchi più attacchi vengono condotti contro la mia opinione più questa opinione resiste a questi attacchi più mi pare credibile quindi ad esempio se dovrò scegliere se rubare oppure no tenderò a non rubare perché dopo aver sentito l'opinione di tanti che mi dicevano non rubare giusto non mi hanno convinto e sono rimasto nella mia opinione so che la mia opinione non è certa perché magari un domani incontro uno che mi convince finora nessuno non ci è riuscito però chissà quindi la mia opinione non è la verità assoluta non è la verità con la V maiuscola però nel dubbio nell'incertezza è comunque più credibile di tante altre opinioni capite criterio di credibilità chiaramente questa dottrina che poi avrà un certo seguito anche nella storia della filosofia è una dottrina che viene a volte etichettata come probabilismo in che senso probabilismo carneade non ha verità non sa cosa è vero non sa se questo è vero se quest'altro è falso eccetera però dice ritengo più credibile questa perché la ritengo più probabile perché dopo aver sentito tante campagne diverse mi sembra quella che regge meglio l'urto di tutte le critiche quindi il credibilismo è una forma di probabilismo non ha verità assoluta ha solo verità probabile verità con la v minuscola verità che accetto fino a prova contraria però questo mi dà comunque un criterio per vivere perché ovviamente questo mi permette di fare le scelte rubare o non rubare uccidere o non uccidere essere generosi oppure no scelgo come agire perché dopo aver sentito tante opinioni scelgo la via che mi sembra all'apparenza più probabile più vera con la v minuscola dopo la fase di carneade e della terza accademia lo scetticismo come per la verità anche il platonismo entrò un po' in crisi la scuola scomparve venne chiusa ci furono ancora filosofi scettici ma molto estemporanei cioè ognuno per conto suo senza una scuola vera e propria senza un impatto poi così rilevante sulla cultura greca sulla cultura romana che ormai aveva assimilato la cultura greca però qualche filosofo rilevante ci fu anche nei tempi successivi ne citerei due in particolare uno si chiama Enesidemo e un altro il più famoso di tutti si chiama Sesto Empirico partiamo da Enesidemo questo Enesidemo vissuto probabilmente dall'80 e il 10 avanti Cristo quindi siamo ormai vicini alla nascita di Cristo nel primo secolo avanti Cristo questo Enesidemo è famoso soprattutto per avere elencato i cosiddetti dieci tropi allora attenzione il mondo scettico antico si sente spesso questa parola che poi verrà ripresa anche da altri cosa vuol dire troppo i tropi sono i modi si può tradurre così la parola modi ma modi per fare cosa sono i modi tramite cui secondo gli scettici si poteva e doveva sospendere il giudizio cioè vi ho detto che Pirrone ha detto non dobbiamo esprimerci dobbiamo sospendere il giudizio praticare le poche cioè non dire cosa pensiamo perché se iniziamo a dire cosa pensiamo anche quando non siamo certi poi carriamo un errore allora come si fa però a non esprimersi a evitare di pronunciarsi a praticare veramente le poche beh un modo valido per praticare le poche è ricordarsi sempre quante volte sbagliamo quante volte i nostri ragionamenti si portano all'errore allora i dieci troppi sono i dieci modi tramite cui noi possiamo sbagliare quando ragioniamo e Residemo li ha elencati proprio come promemoria critico verrebbe da dire citando Kant antelitteram come promemoria per ricordarci guarda ti faccio l'elenco di tutte le volte in cui sbagliamo tutti i modi in cui possiamo sbagliare quando ragioniamo così ti ricordi che è meglio sospendere giudizio allora vediamoli questi dieci troppi perché sono interessanti poi in realtà l'elenco verrà aggiornato modificato livemente aggiustato nel corso dei secoli ma insomma vediamo l'elenco originale e lo commentiamo ve lo mostro anche a schermo perché ho preparato una tabella con il troppo qual è il problema e poi quali sono gli esempi che si possono fare che ho fatto io gli esempi sono miei per mostrare in cosa consiste davvero questo troppo questo modo questa questo problema di di esprimerci vengono chiamati variazioni i contenuti dei troppi perché sono i vari modi in cui le conoscenze ci possono ingannare vediamoli primo troppo noi possiamo essere dati in inganno a seconda dei diversi animali perché cosa vuol dire questo i diversi animali notano questo Enesidemo e tutti i suoi discepoli gli animali percepiscono le cose come nella diversa l'uomo vede le cose in un certo modo i cani le vedono in un altro i gatti in un altro ancora altri animali in un altro ancora pensate molto banalmente ad esempio che faccio io sono gli ultrasuoni gli ultrasuoni noi non li sentiamo per noi a livello sensoriale non esistono ma i cani li sentono sapete che ci sono quei fischi gli ultrasuoni ebbene con quei fischi i cani sentono una cosa che noi non sentiamo quindi le nostre percezioni sono differenti chi ha ragione chi è che percepisce bene noi o i cani oggi noi sappiamo che nel caso degli ultrasuoni percepiscono meglio i cani ma chi ci dice che poi in realtà non ci siano tante altre cose che noi non percepiamo che ci sono ora visto che appunto gli animali ci dimostrano che le sensazioni variano da specie a specie e allora ci possiamo davvero fidare le nostre sensazioni probabilmente no quindi meglio sospendere il giudizio primo troppo secondo troppo le esperienze variano a seconda dei diversi uomini quindi è vero che noi percepiamo menere diverse rispetto agli animali ma percepiamo spesso menere diverse anche rispetto agli altri uomini io ho messo l'esempio alcuni uomini sono daltonici chiaro è un esempio banalissimo quindi alcuni uomini vedono i colori modo diverso da come li vedono gli altri ma in fondo potrebbero esserci anche tante altre variazioni no sono uomini che hanno una vista migliore uomini che hanno una vista peggiore quindi da lontano uno vede una cosa uno ne vede un'altra chi ha ragione bisogna avvicinarsi per saperlo però anche lì quante volte siamo sicuri di aver visto una cosa vera e non è vera i nostri sensi sono ingannevoli quindi meglio non esprimersi secondo troppo terzo troppo per la diversità delle percezioni anche qui era un po' l'esempio che facevo prima io ad esempio posso percepire una cosa da vicino diversamente da come la percepisco da lontano è vero che io posso percepire diversamente da un altro uomo ma anche rispetto a me stesso posso percepire diversamente quante volte vi sarà capitato ve l'ho messo anche nell'esempio che salutiate il vostro amico che vedete per strada da lontano lontano vi avvicinate e non è il vostro amico e allora voi con la mano fate qualcosa salutavo il tizio Caio più lontano ecco quante volte i nostri sensi non solo sono differenti da come li percepiscono i nostri vicini ma anche da noi stessi cambiamo idea a seconda di quanto vicini siamo di quanto percepiamo particolare meglio o peggio quindi terzo troppo meglio non esprimersi quarto troppo le percezioni cambiano anche a seconda delle circostanze esempio ho messo un esempio che è un esempio che deriva addirittura da se vi ricordate dai sofisti avevamo fatto questo esempio con i sofisti una persona malata può sentir freddo anche quando c'è caldo no se io ho la febbre magari sono 30 gradi però se ho la febbre ho freddo allora lì la mia percezione è ingannevole o meglio la mia percezione è diversa da come sarebbe se non avessi la febbre qual è quella vera percezione chi lo sa è tutto relativo alla fine quindi di nuovo possiamo fidarci le nostre percezioni per costruire una conoscenza valida obiettivamente no dicono gli scettici e quindi quarto troppo meglio non esprimersi meglio rimanere sulle proprie e praticare le poche quinto troppo per le differenze di tempo e di luogo certe cose percepite in un certo momento suonano diverse o vengono percepite in maniera diversa e percepite in un altro momento certe cose percepite in un luogo suonano o vengono percepite in maniera diversa se percepite in un altro luogo anche qui da vicino da lontano una montagna ad esempio da lontano può sembrare piccola da vicino può sembrare grande un suono da lontano può sembrare un certo suono da vicino un altro sono tutte variazioni sul tema di quello che abbiamo già detto sono tutti esempi di come possiamo essere tratti in ingarne quindi meglio non esprimersi sesto troppo per le mescolanze allora noi possiamo percepire le cose ma quante volte percepiamo le cose in maniera mescolata mixata diremo oggi con altre cose io ho fatto l'esempio la carne speziata ha un sapore diverso dalla carne non speziata e quindi io assaggio un pezzo di carne mi sembra avere un pezzato sapore ma non è mai la carne pura che assaggio perché ci hanno messo un po' di spezie perché l'hanno cotta in un certo modo ci hanno messo un po' d'olio allora che sapore è che sento quello della carne quello dell'olio quello delle spezie chi lo sa non si riesce a distinguere bene quindi meglio non esprimersi settimo troppo per la quantità e la composizione degli oggetti a volte guardando le cose sono talmente tante che non riusciamo bene a distinguerle e quindi i nostri sensi non sono affidabili vi ho fatto l'esempio della sabbia noi guardiamo la sabbia che è composta da tantissimi granelli ma riusciamo a distinguere i singoli granelli di sabbia difficile quindi meglio non esprimersi ottavo troppo per la variabilità delle relazioni tra soggetto e oggetto ecco attenzione questo è interessante noi riusciamo ad avere uno sguardo puro sulle cose mettiamo che io vi ho messo lì guardi una fotografia ora se questa fotografia è la prima volta che la vedo le persone rappresentate mi sono completamente strane la percepisco in un modo ma se questa fotografia è una fotografia della mia giovinezza e mi porta alla mente certi ricordi non la guardo mica con lo stesso modo percepisco cose diverse la mia analisi di quella cosa ha un valore diverso riesco ad essere obiettivo ben difficile dunque non ci si può fidare dei propri sensi dunque è meglio sospendere il giudizio non ho troppo vado un po' veloce perché avete capito un po' l'andamento ovviamente per la diversa frequenza degli incontri ora ad esempio se vi ho messo lì ascolto una canzone prima volta che l'ascolto posso notare certe cose la centesima volta che l'ascolto ne noto altre che prima non avrei mai notato era sempre la stessa canzone ma io sento cose diverse con l'udito vi potrà capitare iniziate a sentire magari un certo suono di uno strumento che prima non percepivate ma adesso che lo sentite perché? perché la frequenza degli ascolti o delle esperienze cambia l'esperienza stessa e quindi è affidabile all'esperienza? forse no decimo troppo per l'educazione dei costumi e le creenze ovviamente qua abbiamo messo la blasfemia sentire uno che dice una bestemmia in certe culture ha un certo peso ha un certo significato in altre culture ne ha un altro le nostre culture ci influenzano nel modo di percepire nel modo di capire nel modo di pensare le cose altro che certo noi poi con la filosofia tentiamo di metterci al di sopra di queste culture o di capire come ci influenzano e un po' di liberarcene ma riusciamo davvero a liberarcene molto difficile dunque anche in questo caso le nostre valutazioni sono affidabili sono influenzate quindi non so quanto affidabili quindi meglio sospendere il giudizio in più a questi rilievi di energy demo se ne aggiungono anche altri di un certo agrippa questa agrippa poco importante spesso non ricordato ma va citato perché lui elabora lui chiama cinque modi per giungere alla sospensione dell'assenso all'epoca vi ho detto oltre ai troppi che ci mostrano quanto poco affidabili siano le nostre conoscenze sono anche dei modi per criticare chiunque arrivi a dire se non ho le cose stanno così e appunto agrippa è quello che ha tentato più di tutti di delineare questi modi ne ha individuati cinque sono interessanti perché è chiaro che qui siamo davanti a una filosofia distruttiva cioè una filosofia che critica gli altri critica le altre scuole critica gli altri atteggiamenti però mostrandoci punti deboli dei ragionamenti altrui ci mostra anche i punti deboli in generale del ragionamento e come a volte sia difficile giustificare le proprie credenze quali sono questi cinque modi anche questi ve li mostro velocemente a schermo primo modo è il modo della discordanza consiste nel mostrare che c'è dissidio nell'opinione di filosofi cioè tu dici che le idee stanno nel peruraneo caro Platone beh ma il tuo allievo Aristotele dice che non stanno nel peruraneo dice l'esatto opposto e un altro filoso dice un'altra cosa ancora e un'altra cosa ancora tutti argomentate tutti portate argomenti solidi a favore delle vostre idee eppure non siete mai d'accordo su niente segno che evidentemente non ci si può esprimere più di tanto su queste questioni meglio praticare l'epoca ecco un modo per criticare l'opinione altrui è far vedere quanti altri grandi pensatori non la pensano come chi la pensa in quel modo tutta la storia la filosofia può essere uno strumento usato per il modo della discordanza come notate secondo modo numerato da Agrippa il modo all'infinito lo chiama così attenzione qua è interessante perché è anche oggetto di dibattito nel novecento questo modo diciamo questa critica che si può fare alle conoscenze tu mi dici una tua dottrina io ti chiedo vabbè su cosa si fonda questa tua dottrina quali sono i punti di partenza del tuo ragionamento e tu mi dici ma i punti di partenza sono questi io ti chiedo questi punti di partenza su cosa si basano e tu mi dici si basano su questa premessa e questa premessa su cosa si basa allora andando all'indietro cioè chiedendo il tuo ragionamento si basa su una premessa che a sua volta si basa su un'altra premessa su un'altra premessa eccetera vorrei trovare un punto di partenza solido di questo ragionamento ma dice Agrippa molte volte se fate questo ragionamento con chi espone la sua dottrina vi accorgerete che non c'è una premessa solida si cade in un regresso all'infinito si dice cioè a furia di retrocedere non si arriva mai all'inizio e quindi si va avanti all'infinito e non c'è un fondamento valido dico questo è fondante anche nel riflessione del novecento perché quando abbiamo parlato della crisi dei fondamenti se vi ricordate vi metto un link in descrizione in particolare nell'ambito geometrico abbiamo proprio notato come nel novecento si tenti di fondare la geometria su o comunque ogni forma di sapere deduttivo su basi solide e si faccia una grande fatica proprio perché si rischia di incappare in questo regresso all'infinito vi metto un link in descrizione se volete approfondire ma sono cose molto più avanti nel tempo che però si ispirano in parte a questa riflessione già anticipata nell'antichità ragrippa terzo modo il modo della relazione anche qui ritorno a quello che abbiamo detto un po' prima gli oggetti che noi vogliamo studiare non li conosciamo mai per come sono davvero ma sempre solo in relazione a noi ci mettiamo anche del nostro nella conoscenza delle cose e quello di nostro che ci mettiamo è scindibile dall'oggetto quindi l'oggetto lo conosciamo davvero o conosciamo piuttosto noi stessi e quindi si possono criticare tutte le conoscenze anche da questo punto di vista quarto modo modo dell'ipotesi molto spesso vedete si può andare a vedere da dove partono i principi se va avanti all'infinito ma si può anche far notare che molto spesso i punti di partenza di tanti ragionamenti non sono accettati perché veri sono accettati perché ammessi per convenzione cioè alla fine molti dei nostri ragionamenti in campo etico in campo conoscitivo eccetera partono da delle premesse degli assiomi diciamo così che non sono fondati perché sono accettati come veri solo perché è sempre stato così ma è sempre stato così non è un criterio varido ovviamente quinto modo è il modo del circolo vizioso o del diallele cos'è sto diallele che poi tornerà a volte nei ragionamenti con cui i filosofi vogliono dimostrare una cosa dice Agrippa fanno un ragionamento usano A per dimostrare B ma A a sua volta finisce per essere basato su una conseguenza di B è un circolo vizioso cioè tu parti da una cosa per dimostrarne un'altra per dimostrarne un'altra ancora ma poi ti rendi conto che la cosa da cui si è partito si fonda era magari nascosta ma si fonda sulle conseguenze di quello che hai dimostrato questo è un circolo vizioso quando il tuo ragionamento deriva da una conseguenza del ragionamento stesso vuol dire che non è fondato su nulla per farvi degli esempi Agrippa non ne fa tanti ma per farvi degli esempi vi rimando a Cartesio quando abbiamo fatto il discorso cartesiano in realtà più avanti nel tempo siamo al 600 1617 secolo abbiamo accusato il famoso ragionamento del cogito di Cartesios di essere un circolo vizioso lì aveva fatto proprio questo ragionamento del fatto che le conseguenze sono alla fine la base del ragionamento stesso vi rimando in descrizione vi metto un link se volete andare a vedere un esempio famoso di circolo vizioso andate a vedere quello in descrizione trovate il link il filosofo però più importante del tardo scetticismo greco romano è come vi dicevo prima sesto empirico vissuto dopo Cristo quindi già in epoca pienamente romana tra probabilmente il 160 e il 210 dopo Cristo quindi fine secondo secolo inizio terzo secolo quando già l'impero romano inizia a tracciare le prime fasi di crisi il nome in realtà è sesto sesto empirico empirico è il soprannome perché probabilmente non c'è la certezza assoluta ma molto probabilmente questo filosofo era in realtà un medico apparteneva alla cosiddetta scuola empirica cioè una scuola di medicina che all'epoca rifiutava le grandi teorizzazioni le grandi leggi della medicina e si basava invece sull'osservazione concreta dei casi particolari cercando di trovare soluzioni concrete semplici a caso per caso quindi probabilmente empirico è un soprannome che derivava da questa sua attività però sesto empirico è una figura importantissima un po' perché ci ha lasciato dei testi che ci permettono di ricostruire la storia dello scietticismo anche dello scietticismo precedente in particolare i due testi fondamentali sono gli schizzi pirroniani che ci permette proprio di fare la storia dello scietticismo e l'altro contro i matematici attenzione in quest'opera contro i matematici anche quella da cui trareremo alcune delle cose che diciamo oggi non è in realtà scritta contro i matematici cioè il titolo contro i matematici significa contro gli scienziati perché matema era la scienza quindi in quest'opera sesto se la prende non solo o non tanto anche contro la matematica ma soprattutto contro gli scienziati del suo tempo è un testo molto importante perché tra l'altro ci permette di conoscere quali erano le teorie più in voga dal punto di vista scientifico all'epoca perché quando le critica ovviamente ce le presenta anche queste teorie quindi dal punto di vista storico l'opera di sesto empirico è fondamentale per conoscere tante cose sesto empirico essendo un scettico critica tutti i principali metodi di conoscenza che erano ritenuti validi in particolare sono molto incisive le sue critiche alla deduzione all'induzione sono cose che in parte abbiamo già detto perché le abbiamo anticipate quelle che abbiamo fatto Aristotele eccetera vi ho già anticipato alcune cose che in realtà derivano dal sesto empirico cosa dice sesto riguardo alla deduzione all'induzione riguardo al metodo deduttivo dice che in realtà il metodo deduttivo è un diallele cioè è un circolo vizioso in che senso prendiamo il sillogismo aristotelico ad esempio che era l'esempio all'epoca più celebre più famoso più classico paradigmatico del metodo deduttivo ad esempio prendiamo questo questo sillogismo citato anche da sesto ogni uomo animale Socrate è un uomo quindi Socrate è animale questo sillogismo classico è un sillogismo nella prima figura è un sillogismo valido certo è valido formalmente ma dice sesto empirico ci dice qualcosa questo sillogismo perché secondo me non ci dice niente è un circolo vizioso è un diallele perché riguardiamolo ogni uomo è animale ora quando io dico questa prima premessa la premessa maggiore ogni uomo è animale io lo so già che Socrate è animale perché quando dico ogni uomo è animale già è scontato che Socrate sia animale quando dico ogni uomo sottinterno già anche Socrate come tutti gli altri uomini quindi il sillogismo come ogni ragionamento deduttivo dice sesto empirico dice di comunicarsi grandi novità grandi conoscenze in realtà non ci dice niente perché non fa altro che esplicitare cose già implicite no sembra una forma di conoscenza valida ma in realtà non conosce nulla perché esplicita ciò che già davo per sottinteso quando io ho detto ogni uomo è animale davo per scontato che Socrate era un animale e in effetti non ho fatto nessun lavoro di conoscenza nuova quindi il metodo deduttivo non mi permette di allargare le mie conoscenze contrariamente a quanto pensava Aristotele vediamo il metodo induttivo invece è quello io parto dall'osservazione di tanti casi e poi astraggo una conclusione generale beh dice sesto empirico notando una cosa che in realtà era già in parte stata notata da Aristotele io posso anche notare studiare tanti casi particolari ma per quanti casi particolari io riesco a studiare non potrò mai essere certo di aver studiato tutti i casi possibili l'esempio classicissimo è quello dei cigni bianchi no? io vedo un cigno bianco ne vedo un altro bianco ne vedo un altro bianco ne vedo cento cinquecento mille cigni bianchi dopo tutte queste osservazioni arrivo a dire tutti i cigni sono bianchi e sbaglio perché ci sono anche dei cigni neri solo che non li ho mai visti però ci sono allora il metodo induttivo che difetto ha? che nonostante io possa fare tante osservazioni non potrò mai essere sicuro di averle fatte tutte e dunque non posso essere certo di arrivare a conclusioni vere quindi dice sesto il metodo induttivo il metodo deduttivo che sono stati tanto usati dai filosofi ognuno ha detto è più valido questo ognuno ha detto è più valido quel lato in realtà non sono valide nessuno dei due quindi le conclusioni a cui arrivo con uno o l'altro metodo non sono affidabili e dunque è meglio praticare l'epochè meglio praticare la sospensione del giudizio meglio non esprimersi perché di fatto grandi leggi universali non ce ne sono ultima critica importante ai metodi di conoscenza e ragionamento è quello che sesto fa relativamente al concetto di causa e anche questo è interessante perché è una critica che verrà ripresa da Hume nel settecento nel diciottesimo secolo cioè più di mille anni dopo e è ancora oggi interessante cosa dice sesto empirico dice attenzione quando noi parliamo di causa cioè questo fenomeno è stato causato da questi fattori ebbene noi introduciamo un concetto che in realtà non è veramente giustificato secondo sesto empirico perché noi diciamo che certi fenomeni chiamiamoli B sono stati causati dalla causa A ok ad esempio che se io ho acceso il fuoco e ci ho messo vicino una candela questa candela è iniziata a sciogliere allora lo scioglimento della candela fenomeno B è causato dalla vicinanza col fuoco fenomeno A ok benissimo ora se la causa provoca l'effetto allora la causa deve venire prima dell'effetto no normalmente il rapporto di causa-effetto è un rapporto cronologicamente ordinato prima deve esserci la causa poi deve esserci l'effetto ok ma come fa la causa che precede l'effetto essere causa prima che l'effetto si verifichi la causa diventa causa dice sesto empirico eventualmente solo dopo che l'effetto si è verificato non prima allora come può una causa essere causa se quell'effetto non si è ancora verificato diventa ripeto causa solo dopo che l'effetto si è verificato cioè solo dopo che qualcosa è avvenuto ma allora a quel punto la causa diventa in un certo senso retroattiva facciamo l'esempio io quando metto la cera vicino al fuoco posso dire che quella è la causa dello scioglimento ma se lo scioglimento non è ancora avvenuto non posso dirlo quando lo scioglimento avviene dopo un po' di tempo la candela inizia a sciogliersi allora dico beh la causa è stata la vicinanza col fuoco ma a quel punto la vicinanza col fuoco è già caduta da un pezzo allora è come se io dicessi questo effetto mi dà la prova che retroattivamente un certo fenomeno è stato la causa di questo effetto ma in realtà tutto ciò che è retroattivo non è certo chissà magari la candela inizia a sciogliersi per mille altri motivi come faccio ad essere certo assolutamente che sia la vicinanza col fuoco ad aver provocato lo scioglimento della candela quando i due fenomeni sono staccati nel tempo noi oggi diciamo ma molto probabilmente è la vicinanza certo probabilmente ma la certezza assoluta non ce l'ho no? proprio perché i due fenomeni sono staccati nel tempo prima c'è una causa e poi solo dopo in un secondo momento c'è l'effetto io non posso assicurare al 100% che l'effetto derivi da quella causa proprio perché devo fare un salto temporale allora dice Sesto Empirico piuttosto di parlare di causa ed effetto io dovrei parlare di conseguenzialità casuale cioè quando avvicino una candela al fuoco molto spesso tende a sciogliersi non dovrei dire se avvicino la candela al fuoco questa si scioglie di sicuro perché non ne ho la certezza perché non ne ho la sicurezza dal tono abbiamo detto che anche tutte le osservazioni che ho fatto non sono mai certe allora meglio dire secondo Sesto Empirico che quando avvicino la candela al fuoco spesso tende a sciogliersi c'è questa tendenza i due fenomeni tendono a presentarsi insieme avvicinamento al fuoco e scioglimento ma se sono veramente legati se l'uno necessariamente implica l'altro questo non lo posso sapere è una critica al concetto di causua che sarà ripresa ripeto in epoca anche molto moderna ma allora se non abbiamo certezze come dobbiamo vivere allora prima di tutto Sesto ci tiene anche a farci sapere che tutte anche le guide che assumiamo per la vita morale non sono affidabili pensiamo a quello che ci hanno detto gli stoici ad esempio lui ce la prende anche lui con gli stoici come un po' tutti in quest'epoca perché lo stoicismo è la filosofia che a Roma ha maggior successo tra l'altro cosa si dicono gli stoici che noi dobbiamo agire in un certo modo perché c'è un dio il logos che guida tutto e la provvidenza divina eccetera e allora Sesto si scaglia contro il dio degli stoici dice attenzione questa idea che hanno gli stoici di dio a me non pare per nulla affidabile perché muove varie critiche prima critica allora gli stoici dicevano che dio era corporeo se vi ricordate metto un link in descrizione anche a recuperare la visione di dio degli stoici Sesto dice beh se fosse vero che è corporeo allora dio se ha un corpo deve essere o composto o semplice cioè i corpi o sono fatti di varie parti di vari elementi oppure sono fatti di un unico elemento se però il corpo di dio è fatto di varie parti allora tutti i corpi fatti di varie parti noi sappiamo che si corrompono cioè che queste parti si consumano si staccano si aggregano eccetera allora vorrebbe dire che dio è soggetto a divenire ma questo non è possibile non è logico perché le cose che si corrompono tendono a morire dio muore non si può quindi scartiamo l'ipotesi che dio sia composto allora forse dio è fatto di un corpo ma è un pezzo unico diciamo come la terra il fuoco l'aria gli elementi naturali ma se fosse vero questo cioè se fosse vero che dio è come la terra l'acqua eccetera allora dovrebbe essere un dio inanimato perché ciò che è composto un elemento unico non ha l'anima ma è logico pensare che dio sia inanimato assolutamente no quindi vedete se noi diamo per vero che dio abbia un corpo come dicono gli stoici carriamo in una serie di contraddizioni in più attenzione loro dicono che dio vive se dio vive vuol dire che sente anche vivere vuol dire anche sentire percepire no e se percepisce sente cosa percepisce percepisce necessariamente dice sesto anche il piacere e il dolore ma se sente il piacere e il dolore vuol dire che dio provoca prova anche il turbamento il dolore cos'è se non turbamento e allora si può dire che dio è capace di turbamento come gli esseri mortali tutto ciò che viene turbato è mortale di solito allora dice sesto anche dio è mortale e anche questo sembra contraddire l'idea stessa di dio infine ultima critica che fa sesto all'idea tradizionale di dio l'idea storica di dio si dice spesso che dio ha tutte le virtù ovviamente se è vero che dio ha tutte le virtù deve avere anche la virtù del coraggio che è una virtù importante ma che cos'è il coraggio dice sesto il coraggio è tutto sommato superare le proprie paure riuscire ad affrontare ciò che è temibile il coraggio in battaglia è vedere che il nemico è temibile e affrontarlo lo stesso bene ma se diciamo che dio è dotato di coraggio allora ammettiamo che dio abbia davanti a sé qualcosa di temibile e che riesca ad affrontarlo ma questo vuol dire che dio ha paura di qualcosa anche questo sembra una cosa assurda perché dio non dovrebbe aver paura di niente allora come si fa a dire è coraggioso uno che non ha paura di niente non è coraggio è un'altra cosa e allora forse dio non ha tutte le virtù insomma sesto ci fa notare che ragionando come vogliono gli stoici ragionando come vogliono i filosofi si arriva a una serie di assurdità che ci rendono chiaro che non si può dire nulla con certezza attenzione sesto non sta dicendo che non esista dio sta dicendo che non si possa parlare di dio non si possono dire cose su dio perché chissà se esiste o non esiste chissà com'è o com'è non è tutti quei filosofi che hanno provato a dirci com'è o com'è non è si sono contraddetti da soli molto spesso e questi sono solo esempi di queste contraddizioni e allora se non possiamo sapere se c'è dio se non possiamo sapere qual è la verità se non possiamo sapere quasi nulla in pratica come dobbiamo vivere allora sesto da buon empirista da buon medico ci dice eh niente bisogna cercare di fare buon viso a cattivo gioco bisogna seguire quello che dicevamo prima il buon senso cioè cercare di capire dai fenomeni come agire cioè guardiamoci attorno vediamo cosa funziona e quel po' che funziona magari nell'incertezza magari nel dubbio ma cerchiamo di fare le cose che ci sembrano funzionare teniamoci aperte anche la strada a cambiare idea sempre senza essere troppo sicuri di quello che facciamo magiamo concretamente sulla fine la filosofia di sesto come la filosofia in generale degli scettici si riduce a una forma di pragmatismo potremmo dire così empirico guardiamo cosa i sensi ci suggeriscono e seguiamo quello che i sensi ci suggeriscono in particolare sesto propone quattro guide proprio per la scelta per decidere come agire e sono ve le mostro anche a schermo la prima guida è ciò che ci indica la natura attraverso i sensi la seconda guida è i bisogni del corpo la terza è le tradizioni intende le leggi e i costumi la quarta guida le regole delle arti cosa significa? sono guide che derivano dall'attività medica di sesto guardiamo come lavora un medico un medico del tempo oggi la medicina ha delle cose abbastanza solite delle conoscenze abbastanza solide ma all'epoca non ne aveva tante allora sesto dice piuttosto di andare a cercare nei libri delle soluzioni che poi si rivelano sbagliate soluzioni che magari andavano bene per uno non vanno bene per un altro per capire come curare un paziente noi dobbiamo prima di tutto guardare cosa ci dicono i sensi quindi analizzare il caso specifico dov'è che ha male che colorito ha eccetera cioè guardare ciò che i sensi ci comunicano prima cosa seconda cosa bisogna cercare di capire di cosa ha bisogno il corpo anche quello è qualcosa che ci viene comunicato probabilmente è disidratato dobbiamo dargli acqua eccetera cercare di capire ma guardando concretamente caso per caso le situazioni terza cosa appoggiarsi anche alle tradizioni ok ho visto cosa mi dicono i sensi ho visto di cosa ha bisogno questo corpo adesso guardiamo se magari qualcuno mi insegna una pratica che è già stata usata no cosa mi dice la legge cosa mi dice la tradizione cosa mi insegnano c'è qualcosa che mi può essere utile pur sapendo che non ha detto che sia una verità assoluta ma magari qualcosa di utile c'è quarto modo le regole delle arti le mie pratiche la mia pratica medica mi insegna qualcosa se c'è qualcosa di valido che in questo caso specifico posso applicare proviamo ad applicarlo cioè alla fine se stai dicendo non fidarti di nessuna regola assoluta perché le regole assolute sono tutte incerte in realtà sono tutte esagerazioni guarda però caso per caso affidati al tuo intuito a quello che vedi a quello che percepisci a quello che ti pare appoggiati anche alle tradizioni ai costumi al buon senso a quello che è già accaduto e naviga a vista verrebbe da dire cerca di fare buon viso a cattivo gioco cerca di trovare la soluzione pratica concreta in ogni circostanza senza credere di aver scoperto la verità con la V maiuscola ecco questo era quello che volevo raccontarvi oggi per approfondire questa pagina dello scetticismo antico con vari elenchi vari nomi particolari troppi i modi e questo e quello però spero che in questo modo abbiate più chiaro tutte le critiche che gli scettici nel corso dei secoli hanno fatto alle altre filosofie e perché qual era lo scopo non è solo uno scopo distruttivo era anche uno scopo pragmatico di vita concreta di etica applicata di come dicevo prima a navigare a vista per trovare comunque delle soluzioni non per evitare di affrontare i problemi ma per affrontare i problemi in modo più concreto ecco e per oggi abbiamo finito vi ricordo che in descrizione trovate i titoli che sono comparci qui mentre spiegavo trovate anche i link agli altri video che ho citato in citati vari e trovate anche tutte le risorse utili per seguire il canale oltre ai social network se volete venire in contatto col sottoscritto dove tra l'altro ho iniziato anche a suggerire letture quotidianamente in pratica i nuovi libri che escono ho fatto una cernita le cose che mi sembrano più interessanti se volete seguirmi può essere utile poi sempre in descrizione trovate anche il link alla newsletter settimanale gratuita è una mail che mando una volta a settimana dove parlo di video di podcast che ho fatto ma anche di appunto libri che sto leggendo film che sto vedendo riflessioni sull'attualità magari può essere interessante gratis anche quello dateci un'occhiata e poi sempre in descrizione infine trovate in modo per sostenere questo progetto se vi piace quello che faccio e volete darmi una mano perché ovviamente libri strutture eccetera ci sono dei costi anche a volte importanti lì c'è la modalità tramite donazioni tramite abbonamento al canale youtube e altre modalità che in cambio poi l'abbonamento vi danno anche dei vantaggi esclusivi ho detto tutto ci vediamo presto per parlare ancora di filosofia antica moderna contemporanea di storia educazione civica e tutto il resto ciao